Il marocchino di 63 anni, fermato ieri sera dai carabinieri per l'omicidio di Afzal Ossain, bengalese di 44 anni, ucciso con alcune coltellate nel corso di una rissa, era una delle persone individuate e portate in caserma per essere ascoltate sulla tragedia avvenuta in mattinata sotto questa palazzina di via Gran Sasso al numero civico 17. Tra queste anche le tre persone che oltre la vittima avevano partecipato alla lite. Una lite assurda, diventata subito furiosa, scoppiata per futili motivi legati a questioni di vicinato. Dai primi elementi acquisiti e dopo i riscontri avuti il fermo giudiziario è scattato in caserma. Il presunto omicida aveva abiti e scarpe con evidenti macchie di sangue. Anche lui, come la vittima, abitava nella stessa palazzina. L'uomo è ora rinchiuso nella casa circondariale di San Donato. I carabinieri continuano le indagini. Manca infatti un tassello importante, l'arma usata per colpire a morte il bengalese.